ciao a tutti bentornati a romanziamo andiamo avanti con la serie di anita blake per cui benvenuti al video dedicato al settimo romanzo il dono di cenere anzi dono di cenere e basta della anita blake challenge siamo al settimo romanzo e prima di parlarne devo ammettere che è stato uno di quelli che mi è piaciuto di meno insieme al quinto e non so esattamente perché però prima di cercare di scoprirlo io direi che sigla ci attende la sigla però prima lasciate un bel like iscrivetevi al canale e attivate la campanella per cui andiamo subito al saldo di questo video sigla allora perché non mi è piaciuto troppe dinamiche troppi personaggi vecchi e nuovi che si confondono insieme tantissimi personaggi davvero una marea infiniti personaggi io sto facendo una confusione pazzesca sto facendo fatica a seguire la quantità di personaggi che ci sono troppa poca sensualità rispetto al libro precedente che invece era stato pieno di sensualità e mi era piaciuto tantissimo e in generale troppe scene e come sempre troppe chiacchiere però le chiacchiere come sempre permettono ad anita di architettare diciamo delle scappatoie dei trucchi per riuscire a salvare la situazione in extremis per fortuna anche è un po' l'ulisse della situazione ecco insomma riesce a trovare un modo per far uscire ancora tutti quanti in modo indenne anche se va bene non disdegna la lotta anzi figuriamoci poi in questo libro da il meglio di sempre per quanto riguarda questa voglia proprio di sangue ma per dei motivi particolari partiamo dal fatto che è terminato il periodo richard e jean claude adesso anita sta solo con jean claude e non si fa più alcuna remora ad andare a letto col suo vampiro però è ancora legata a richard dal triunvirato che hanno appunto messo insieme con jean claude e anche dal branco di cui anita dopo l'uccisione di raina è diventata capobranco cioè i licantropi la riconoscono come la lupa non tutti non del tutto ma riconoscono che è la loro lupa richard odia anita così come odia a se stesso cioè lui dopo quello che ha fatto e dopo la rottura con anita è proprio caduto in depressione nell'odio nel rancore per ciò che è per il fatto che la sua belva lo chiama il sangue e che il sangue piace alla fine perché fa parte della natura di ciò che c'è di bestiale in lui e diciamo che jean claude ci mette del suo a rigirare il coltello nella piaga diciamo che si vanta un po di aver conquistato alla fine anita e ostenta il fatto che lui e anita stanno insieme per un motivo contorto che ancora non mi è chiaro ma si vede che non sono stata abbastanza attenta perché dovevo stare attenta a tutti i personaggi nuovi anita è anche diventata la femmina alfa dei leopardi mannari quindi ora in pratica è la femmina alfa di due branchi e dei quali fa per i quali fa di tutto per occuparsene questo sì in tutto questo il consiglio dei vampiri giunge anche a san luis per rompere le scatole a jean claude torture suoi vampiri e suoi licantropi e vorrebbero metterlo a morte per aver ucciso all'epoca oliver cioè vi ricordo il vampiro antichissimo che proveniva dall'epoca dei neandertal e diciamo che jean claude protegge anita dicendo che in realtà non è stata lei comunque vabbè sono stati lo hanno ucciso insieme ok però è stata anita a ucciderlo e appunto vorrebbero punirlo perché questo oliver era uno del consiglio praticamente entra in gioco un variegato gruppo di psicopatici tra cui il viaggiatore che è un vampiro che però non ha un corpo quindi si serve dei corpi degli altri vampiri per cui diciamo che entra la sua essenza entra nel corpo altrui non solo vampiri ma anche altri padma che è il signore delle belve anche lui è un vampiro che riesce a diciamo risvegliare qualsiasi forma bestiale che c'è all'interno dei mannari qualsiasi sia il loro tipo e fernando suo figlio il cui unico scopo nella vita sembra quello di voler di violentare gli altri insomma sembra l'unico motivo per cui vive nonché ivette e warwick che sono lì per rappresentare la loro master anche lei ha dei poteri particolari adesso non ricordo esattamente oliver tra parentesi era colui che scuoteva la terra per cui era capace di creare terremoti insomma i consiglieri diciamo hanno tutti dei delle facoltà particolari e ciliegina sulla torta torna anche asher direttamente dal passato di jean claude asher diciamo faceva parte era il suo amante era l'amante di jean claude che aveva una serva umana che però è stata uccisa è stata bruciata sul rogo e asher invece è stato torturato con l'acqua santa infatti a mezzo sfigurato dall'acqua santa che gli hanno fatto gocciolare questo ancora praticamente nel settecento goccia dopo goccia l'inquisizione insomma l'ha mezzo sciolto con l'acqua santa e asher ce l'ha sempre avuta con jean claude perché dice che non ha fatto nulla per salvare né lui né la sua serva umana che era sempre stata innamorata di jean claude mentre in realtà jean claude era lontano ma per altri motivi non è che non volesse salvarli però asher è convinto di sì insomma si è sentito tradito da jean claude ed è arrivato per avere la sua vendetta infatti così come jean claude gli ha fatto perdere la sua amata adesso asher vorrebbe uccidere anita il nuovo potere che invece anita scopre in questo romanzo di avere è quello di risvegliare il munin cioè uno spirito per cui un antenato del branco anzi il potere di un antenato del branco in questo caso proprio quello di raina in cui spirito ovviamente è crudele ed è affamato diciamo di sesso per cui ok però è anche grazie a questo potere di risvegliare raina che è una crudele che riesce a salvare se stessa e la sua gente o comunque l'agente di jean claude e i licantropi durante lo scontro finale che essendo l'unica parte che ho trovato davvero interessante di questo libro è anche quella che mi è sembrata durare troppo poco rispetto a tutta la mole precedente di eventi del guazzabuglio insomma che succede durante il resto del romanzo conclusa quasi in fretta dovrei dire e mi è dispiaciuto perché davvero l'ho trovata l'unica parte interessante perché per il resto è un continuo andare di qua di là per risolvere casi di omicidio comunque anche di vampiri che vengono attaccati dagli estremisti religiosi che comunque hanno a che fare con l'arrivo ovviamente dei consiglieri in città insomma comunque dopo varie peripezie Anita riesce a portare dalla sua parte i consiglieri Warwick uccide Yvette e uccide anche se stesso grazie al suo potere incendiario Fernando e Liv vengono trucidati dalla leoparda che avevano violentato e tanti saluti fine della storia alla fine Richard e Anita trovano un accordo per continuare a non litigare e Richard cerca di aiutarla a imparare a manovrare il potere del Moonin però in tutto il romanzo manca quella deliziosa attenzione che c'era quando Anita era ancora indecisa tra Richard e Jean-Claude senza più preoccupazioni amorose insomma è come se la storia si fosse un po' svuotata di ciò che la rendeva affascinante fino a questo momento insomma spero che le nuove dinamiche che si sono abbiate in questo romanzo tra cui anche il ritorno di Asher rendano un po' più interessante il prossimo romanzo perché ce n'è davvero bisogno questo mi ha annoiato parecchio forse anche più del quinto devo essere sincera l'ho trovato noioso cioè capitano troppe cose e nessuna sembra veramente importante troppe scene per nulla troppi personaggi per nulla troppe parole per nulla e comincio a forse arrivare al punto in cui mi ero praticamente stufata la prima volta che avevo letto questa serie per cui spero di tenere duro ancora un po' perché comunque è una bella serie vale la pena di essere letta a volte la tira un po' troppo per le lunghe comunque io spero che questo video sul settimo romanzo della serie di Anita Blake vi sia piaciuto se ancora non lo avete fatto quindi lasciate un bel like iscrivetevi e attivate la campanella io vi ringrazio tantissimo per aver ascoltato ancora una volta i miei deliri su questa serie per cui per essere stati qui con me oggi grazie tantissimo per la vostra attenzione noi ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda stupenda giornata ciao a tutti ciao a tutti